Dottor Anucci, se ha concluso passerei la parola al dottor Corsini. Grazie. Allora cerco di dare le risposte accorpando praticamente due temi che sono stati sollevati, uno più inerente al giornalismo d'inchiesta e al report, in particolare uno riguardante invece i programmi della direzione approfondimento, i programmi più in generale. Allora, la bolsa di contratto di servizio approvata da questa commissione, che è ancora allo studio, all'articolo 4, paragrafo 2, di bis, è stata inserita la valorizzazione e la promozione della propria tradizione giornalistica d'inchiesta. Questa è una cosa qui c'era nel precedente contatto di servizio, è stata esplicitata anche in questo, a cui dovremmo far riferimento nell'espletare il contratto di servizio. Allora, giornalismo d'inchiesta, chiariamo che cos'è il giornalismo d'inchiesta, perché sono state anche sollevate degli appunti su questo. Il giornalismo d'inchiesta trova fondamento nell'articolo 21 della Costituzione, quando indica in modo motivato e argomentato sulla base di elementi oggettivi sospetti di illeciti, suggerendo così agli organi inquirenti una direzione d'indagine, una ricostruzione o denuncia di vicende oscure, le cui responsabilità rappresentano mistero per l'opinione pubblica e che richiedono interventi normativi per essere chiariti. Abbiamo in re tradizione consolidata, quindi si fa riferimento alla tradizione, il giornalismo d'inchiesta, Sergio Zavoli, che viene considerato il padre del giornalismo d'inchiesta televisivo, La notte della Repubblica, il titolo che tutti ricorderete, Roberto Morione, con cui il frito ha lavorato. Questo è il quadro di riferimento. Poi, le sentenze della Cassazione e, in ultima, le due più note, la cosiddetta sentenza Gabanelli, nel 2013, su un'inchiesta proprio di report, ha sancito che al giornalismo d'inchiesta una specie di lavoro giornalistico deve essere riconosciuta a ampia tutela ordinamentale, ma in particolare ha indicato una meno rigorosa e comunque diversa applicazione dell'attendibilità della fonte, fermi restando i limiti dell'interesse pubblico alla notizia e del linguaggio continente, ispirato alla correttezza formale. È infatti evidente che nel giornalismo d'inchiesta viene meno l'esigenza di valutare l'attendibilità e la veridicità della provenienza della notizia, dovendosi ispirare il giornalista nell'attingere direttamente l'informazione, principalmente ai criteri etici e deontologici della sua attività professionale. Lo stesso la Cassazione, giudicando un caso di supposta diffamazione a mezzo stampa, il 3 novembre del 2023, quindi in maniera, diciamo, veramente pochi mesi fa, ribadendo l'articolo 21, eccetera, eccetera, ha parlato del giornalismo d'inchiesta sottolineando il valore che esso risiede proprio nella capacità di stimolo nei confronti della collettività al punto che se ne devono valutare gli esiti non tanto alla luce dell'attendibilità e della veridicità della notizia quanto piuttosto dell'avvenuto rispetto da parte del suo autore di doveri deontologici di lealtà e buona fede. Ok? Quindi, l'oggettività di valutazione è ricondotta a criteri di deontologia professionale. Ora, io sono il direttore della direzione approfondimenti che ha un mandato specificato all'azienda con ordine di servizio sviluppare e selezionare i formati svolgere funzioni di controllo coordinamento e supervisione tutelando l'autonomia editoriale dei singoli programmi di approfondimento informativo in linea con gli obiettivi di servizio pubblico, eccetera, 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 eccetera. Quindi, ci può essere una differenza e sicuramente c'è una differenza di sensibilità su scelte di argomenti o modalità di esposizione però attiene appunto alla sensibilità. Se si è chiesto se c'è differenza tra opportunità e correttezza bene è sempre possibile se si ritiene di essere diffamati o infangati ricorrere alla giustizia ordinaria sede civile sede penale o alle commissioni di disciplina dell'ordine giornalisti sul piano deontologico che è appunto il fondamento del giornalismo inchiesta per la replica l'hanno già evidenziato c'è il TUSMAR sono cose che superano le valutazioni che posso fare io sui singoli sui singoli servizi io cosa posso fare posso rafforzare appunto come chiesto al contratto di servizio e consolidare i titoli di lunga tradizione report ma abbiamo anche presa diretta meno lunga tradizione indovina chi viene a cena trasmissioni che sono vicine al giornalismo d'inchiesta come mi manda le tre titolo storico della RAI petrolio che ritorna il pomeriggio sui re tre e nuove iniziative editoriali come Far West che partirà a fine novembre con salvo sottile sempre in prima serata sui re tre quindi questo viene ad attuare quello che è il contratto di servizio chiedeva sul sistema è un sistema interno di organizzazione report negli anni ha stratificato un differente organizzazione di lavoro è l'unico caso in cui abbiamo ed è il motivo per cui tecnicamente la Presidente ha convocato il conduttore in questa commissione che è anche vice direttore oltre responsabile del nucleo produttivo di report e quindi è un caso particolare su cui abbiamo anche avviato valutazioni all'interno dell'azienda soprattutto per quanto riguarda ma questo è un tema più ampio che avete evidenziato nel caso di report sull'uso dei social è un tema enorme ma non tanto l'uso dei social in sé ma soprattutto la moderazione dei contenuti e per quello che portano come trascinamento dei commenti dei follower in quel caso non dei telespettatori sulla riflessione su palinsesti riduzione del canone ecco sulla riduzione del canone è un tema che travalia le competenze della mia direzione certo è che saranno scelte che farà l'amministrato delegato e il consiglio dell'amministrazione col piano industriale ma è ovvio che una riduzione del perimetro dell'offerta sarà inserita in che proporzione non lo posso sapere ma sicuramente ci sarà una riduzione del perimetro dell'offerta questo è ovvio per quanto riguarda invece l'offerta della direzione approfondimento su cui sono state fatte svariate domande tra cui con toni decisamente differenti ma dal senatore Nicita e dall'onorevole Filini il servizio pubblico in ogni caso rimane il servizio pubblico quello che ha viene offerto a fronte di un contratto di servizio e un corrispettivo canone non penso che il servizio pubblico possa andare oltre perché sennò diciamo che il servizio pubblico è incarnato da singole professionalità mi sembrerebbe un'enormità abbiamo sicuramente c'è un movimento che è il mercato a cui la RAI dovrà far fronte sotto vari aspetti con scelte di trovare nuove o altre risorse ha citato l'ottogenario un'ultra l'ottogenario Augas non è una trasmissione di approfondimento ma tiene al genere di cultura ma nella trasmissione di approfondimento abbiamo trattenuto nomi diciamo della stessa corrente culturale caro figlio Gian Naccone che ci saranno nel prossimo palinsesto e poi ha dimenticato professionalità come quelle di Vespa che mi sembra che aiuti a contribuire a dare un'offerta pluralista e di qualità perché ascolti sono tanti i programmi sono 47 mi sembra iniziative editoriali della direzione approfondimento alcune chiudono alcune aprono abbiamo svariati dati positivi chiaro che è difficile fare il punto con iniziative editoriali che sono iniziate magari a metà anno l'anno scorso o ottobre su ottobre perché cambia il contesto bisognerebbe fare anno su anno però posso citare trasmissioni col segno più ce ne sono 5 minuti a un guadagno sia in termini di share in credito sia in termini di share che in termini di test rispetto all'anno scorso subito allo Tg1 per fermarmi Rai1 buongiorno benessere trasmissione di approfondimento medico scientifico e check up che ha traslocato da Rai2 alla mattina di Rai1 con lo stesso impegno baggettario ha avuto ovviamente un enorme aumento di share molto bene va su Rai2 ore 14 trasmissione di cronaca quotidiana da lunedì e venerdì a un aumento dell'1.4 in termini di share 150.000 5.000 teste Restart che è passata dalla seconda serata di Rai2 alla mattina di Rai3 ha avuto un incremento sia in termini ovviamente sia in termini di test che di share e l'Isir alta trasmissione di salute mi manda Rai3 il sabato e la domenica ha un incremento sia in termini di share che in termini di test in mezz'ora che è passato appunto una delle addi eccellenti quello di Lucia Annunziata che ritenevo potesse tranquillamente continuare a fare il suo lavoro l'ho detto pubblicamente gli l'ho chiesto ha fatto una scelta differente è stata sostituita risorsa esterna da una risorsa interna Monica Maggioni che ha ricoperto vari incarichi in Rai e che mi sembra che abbia assolutamente trovato il suo spazio la domenica mattina avendo un un ascolto sia in termini di test che in termini di share comparabile a quello della conduttrice precedente chi l'ha visto trasmissione storica della Rai ha un leggero incremento in termini di share è ovvio che non nascondo che ci sono trasmissioni e nuove iniziative editoriali ma lo sappiamo l'abbiamo letto lo leggiamo tutti che hanno le loro difficoltà ripeto avanti popolo alla quarta puntata valuteremo quattro puntate quattro puntate normalmente sono sei otto puntate le iniziative editoriali anche le più brevi faremo le nostre valutazioni che sarà di Serena Bortone print time del sabato e access di domenica ha le sue difficoltà domenica ha avuto un sussulto e stiamo anche lì valutando le iniziative editoriali possono andare bene possono andare male l'anno scorso abbiamo tentato alcuni programmi che sono stati poi chiusi perché non hanno trovato un riscontro nel pubblico altri come 5 minuti 3 mesi sperimentale l'ho messa in piedi io da vice direttore ovviamente per quanto riguarda la parte organizzativa il conduttore chiaramente Bruno Vespa che ha la sua professionalità e la sua riconoscibilità era sperimentale il bilancio è stato positivo è stata riconfermata per tutta la programmazione di quest'anno quindi mi spiace che non c'è più il senatore di cita non è narrazione e contro narrazione abbiamo dati oggettivi e valutazioni per quanto riguarda l'investimento budgettario Rai 1 e Rai 2 sono assolutamente sostanzialmente invariate anche perché non hanno avuto grandi cambiamenti di palinsesto posso però dire che per esempio sulla seconda serata di Rai 1 per dire avendo non avendo mandato in onda un programma come quello di Decataldo che era un appalto totale per circa 75 mila euro a puntata e avendo invece mandato in onda storia di sera che sta andando in onda in questi giorni seconda serata direi uno del lunedì e poi partirà il programma il nuovo programma di Giorgino altra nuova iniziativa territoriale che amplia il panorama informativo che costano circa 40 mila euro a puntata c'è stato un netto risparmio circa il 14% e uno spostamento dall'impegno budgettario sull'utilizzo di risorse esterne appalto totale a programmi di produzione interna questa seconda serata di Rai 1 è l'unica modifica e quindi l'ho voluta citare per il resto ci possiamo concentrare su Rai 3 che ha avuto le più grandi variazioni di palinsesto access e prima e seconda serata di Rai 3 mi concentrei su quello l'anno scorso avevamo che tempo che fa prima serata appalto parziale access della domenica 430 mila euro a puntata le parole 50 mila euro a puntata sabato access lungo carta bianca 50 mila euro a puntata martedì in prima serata per un totale di 530 mila euro quest'anno c'è stato uno spostamento di report dal lunedì alla domenica con un aumento di 25 minuti un aumento budgettario risibile di 10 mila euro che sarà la domenica 40 mila euro che sarà sabato 40 mila euro avanti popolo martedì prima serata 200 mila euro far west programma di salvo sottile di inchiesta che partirà fra poco 200 mila euro lunedì al posto di report per un totale complessivo di 500 mila euro di impegno budgettario c'è stato quindi un risparmio nella prima stagione di 30 mila euro nella fascia access prima serata un risparmio del 5% altre iniziative in mezz'ora dell'annunziata in mezz'ora della maggione sono praticamente comparabili come costo quindi c'è poco altro da citare non c'è questo spreco di risorse cosa che non è nella nostra mission siamo molto attenti non ho mai sforato nella gestione dei programmi che ho gestito il budget assegnato in questi 4 anni che gestisco budget in rete abbiamo un andamento dello share finito presidente e delle teste che ha luci ed ombre chiaramente nelle ombre dovremmo intervenire le luci ci possiamo accontentare delle luci tra cui report come abbiamo citato nella fattispecie ma non è l'unica trasmissione che va bene sulla parco scusate avevo detto che rispondevo io ho risposto penso in generale sì ho risposto ci possono essere differenze di sensibilità sulle scelte di argomenti e sulle modalità di svolgimento questa è la risposta assolutamente sì però c'è anche il dovere di mandato nella mia disposizione organizzativa da RAI il cui io devo garantire l'autonomia dei singoli programmi della mia direzione sul sul la parcondicio la competizione elettorale investiva meno del 25% dell'elettorato nazionale e ciò deriva che non trova applicazione per l'emittenza televisiva nazionale del regime della parcondicio elettorale quindi non erano citati né candidati né argomenti né tematiche relative alla competizione elettorale per cui era anche lì ci potrebbe essere una valutazione relativa alla sensibilità ma le regole sono quello a cui mi devo attenere e chiaramente non c'era elementi per non mandare in onda una puntata del genere ma le regole